bella a tutti ragazzi e benvenuto in quest'annale di giorno whisky e ci stiamo a rompere il cazzo alla 500 millesima volta a Alessandro ciao ragazzi grazie sponzo allora ragazzi ciao ma stai aggiungendo un cavallo a favore no ok ragazzi ok ragazzi oggi siamo su un nuovo vlog che stai stai muovendo no ma fammi ciao ciao oh ciao oh ciao oh ciao oh ciao luci 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 ora è un problema è adesso e di St tetto i E' bello! Mi pare di piacere! E' bello che vuoi dare notare! E' bello che vuoi dare! No, no, no! Non quello! Questo è che devi dire sul lengo! E' bello che vuoi dare! Non è vero! No, è vero! Devi dire! Devi dire! Adè, l'idormazzate? 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 O no? Affanculo! L'idormazzate? O no? L'idormazzate? Beh! Affanculo! Si fa male il boccone? No. Affanculo! Affanculo! Lo slender! Vabbè, non è tutto il episodio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento e mi piace. Anche alla pagina di Facebook. Se oggi ne la metto, ragazzi. Se vi è piaciuto, lasciate un commento e mi piace. Anche alla pagina di Facebook. Se oggi ne la metto. Se non ci siamo ancora iscriviti, iscriviti e vediamo al prossimo video. Bella ragazzi! E inserite un commento. Sì! Sì! Grazie a tutti.